Molto le braccia fuori, la testa delle spalle, spalle le mani interna. Allora, accontriamo il sito dall'esterno, cerchiamo di scendere alla posta da destra. Iniziamo il nostro internazionale, attento alla nostra parte. Sto lavoro. Torno al centro, teniamo la figura in mano, spoggiamo i piedi. Iniziamo l'altra. Appoggio la tricola a terra. Poi sono a terra. Mi ancora mi auguro completamente. Sto facendo la schiena giù. Iniziamo l'altra. Iniziamo l'altra. Iniziamo. 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 si concentra dall'altro verso il basso, sempre dal stesso lato e andiamo dall'altra parte e andiamo Ok e ci spiei Come facciamo il quadro e sottotitoli Sofante Ascoltiamo Stato in gara di 1-0 2-0 1-0 1-0 Stato in gara di 1-0 2-0 3-0 1-0 2-0 2-0 3-0 5-0 4-0 3-0 2-0 1-0 Stato in gara di 1-0 2-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 8-0 8-0 8-0 9-0 un ultimo schiero schieno dietro porto le braccia calo della destra per questa stazione della sua lombare il ritornamento stuato ok scegliamo gli occhi scelto i piedi allora la vittura del sottotetto ha attaccato un palo della mano cioè un bel colpiamo con un punto di scopo e la ricollezionante e la facciamo a fare questo c'è il lavoro archa 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 piano 我跟你 archa �! in più in 40 e stop Lasciate qualche lungo di scima, magari hanno ragionato di un'aricata e della tratta giù. Il genio strafitto è raggiunto la tratta e avete bene il corso. Quando avanti, respiro, sollevo e scendo. Quando avanti, respiro, sollevo e scendo. Quando avanti, respiro, sollevo e scendo. Quando avanti, respiro, sollevo piano. Quando vi piante in piedi verso l'esterno, 45 gradi, vi lascio andare un pochino lentamente al centro. Potete provare? E' perché la mano è lasciata la ricetta, completamente. Mettamente. Passo le mani interno. Stendo le gambe. Scendo. Stendo le gambe. Scendo le gambe. Scendo. L'ultima volta. E' il tempo che vediamo il piede. L'aperto e il piede. E spingo verso il basso. Scopo di vita dentro la schiena, legati sulle gaffe, legati sulle gaffe, legati sulle gaffe, lungo sulle gaffe. Sendo piano, relazzo, guardo ora, scegliere l'aria, scegliere l'aria, scegliere l'aria, scegliere l'aria, scegliere l'aria. Uno, due, tre, scegliere l'aria, scegliere l'aria, scegliere e scegliere, scegliere e scegliere la parte, scegliere l'aria, scegliere. Scusate il ritardo, io lo devo fare recuperare sicuramente nel modo dell'altro, vedete l'ultima filo con la legge che si mettono, perché non vi preoccupate. Poi se ne andrò la linea, lì, 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 lì. Scusate in